benvenuti questo nuovo video video di del risultato della diretta fatta il 9 dicembre questa è l'inizio della della diretta adesso andremo a sentire io chiedo una cosa vabbè comunque dai aspettate andiamo a schermo intero andiamo a schermo intero eccolo qua via ok intanto vediamo se c'è qualcuno allora io qui chiedo una domanda vediamo se c'è qualcuno era l'apertura del diciamo dell'inizio della sessione di metafonia e mi dicono subito bene bene mi dicono che sono in sei in all'inizio della sessione e mi dicono tu giovanna non so chi sia giovanna e dice un messaggio molto particolare è lì il cuore cioè giovanna non so chi sia però dice che è lì il cuore cioè ha lasciato il cuore cioè ha lasciato i suoi familiari e tiene a dire questa piccola frase che comunque ci fa capire l'affetto l'amore nei confronti che noi siamo di qua c'è c'è stato c'è allora Elena l'avevamo aiutato in una sessione non stava bene e gli abbiamo teso una mano l'abbiamo aiutata e adesso andremo a vedere il risultato insomma del nostro lavoro fatto due mesetti fa pressa poco due mesi e mezzo fa o tre mesi al massimo ecco questa è la dimostrazione che io facendo metafonia sento se sono in difficoltà o meno la mia amica fa il possibile per aiutarli e qui andiamo a scoprire il lavoro fatto che abbiamo fatto sia io nell'ascoltare la metafonia e sia la mia amica nell'aiutare una determinata persona tra l'induetta e anima e adesso andiamo a vedere se il nostro lavoro diciamo è stato ripagato mi risponde subito Elena e dice eh esisto cioè io non sono più in forma materiale come voi di massa fisica eccetera eccetera però dice eh guarda che io esisto io ci sono ancora infatti ci risponde poi dirà una cosa molto particolare e dice il cielo sede fin lì praticamente lei adesso è nella luce e dice che lei è nel cielo e su sede è la sua casa è la sua nuova casa quindi è una cosa molto bella quella che ci dice e quindi qui ci fa capire che comunque lei adesso sta bene e nella luce e adesso manda un piccolo messaggio alla Roby dice guarda tesoro hai un foglio sicuramente tu da qualche parte Roby hai un foglio scritto da lei o un post it qualcosa di questo genere almeno io penso poi è quello che penso io poi la verità la sai tu Roby eh perché dice guarda tesoro tu hai un foglio cioè hai un foglio scritto da me penso eh ed è bello perché ti chiama ti chiama eh ti chiama eh ti chiama tesoro tesoro eh vuol dire che comunque eravate molto amiche e siete ancora eh molto amiche ecco quello che voglio dire insomma e qui eh le persone che conosciamo in vita e ci portiamo nel cuore eh e ci portiamo nel cuore eh e c'è un affetto vero sincero eh questa è la dimostrazione pratica che anche nell'aldilà loro ottengono questi sentimenti e sanno che comunque eh di chi si possono fidare chi no chi eh veramente è stato amico e chi no e dice passato vedi dice eh ho avuto un passato eh che adesso mi sono messo alle spalle e io penso che tu capisca Roby di di quale passato lei sta parlando e le adora in luce sopra si chiama Elena e quindi Ele dice come fosse anche una mia amica eh dice in luce sopra cioè io sono sopra sono in luce poi ha detto che all'inizio è la tra virgolette la luce al paradiso è la sua nuova casa e niente ci dice che comunque sta bene cioè gli piace la luce in confronto al posto dove l'avamo trovata ecco e qua dice voce cioè io adesso con la metafonia posso anche parlare cioè la metafonia è questo che serve si riesce a farle parlare e mandare messaggi allora ho sentito che ha risposto Elena mi ha detto luce qui poi dopo sentiremo quando farò il video sentiremo meglio ecco eh e allora poi facciamo sempre per te Roby eh allora qui eh mi risponde non so se è lei però eh è un'anima che mi risponde e mi dice mi dice Adamo là il ministro cioè c'è una guida elevata in questa metafonia beh insomma in tutte le mie metafonie ci sono le guide elevate e dice passa da qui cioè c'è il ministro è un santo ecco e passa di qui e dice che saluta e qua dice un messaggio strano non so che cosa vuol dire c'è dice che c'è un uomo di sale forse caratterialmente eh eh c'è un uomo che insomma ha un carattere un po' ehm il sale è così nel senso è aspro a me piace tantissimo il sale lo metterei anche nel caffè vabbè e dice che c'è questo uomo di sale penso ha un carattere un po' particolare insomma poi dice stelle stelle e filippo non so chi sia filippo stelle sono i ministri sono i santi e però filippo insieme a queste stelle questi ministri questi santi e qua mi dicono un messaggio molto particolare mi dicono Adamo Adamo la regina si cerca eh chi è la regina? eh beh insomma eh siccome che era il 9 di dicembre l'otto era l'immacolata concezione della madonnina celeste chi è la regina in questo caso la regina è la mamma celeste io la chiamo Imma perché comunque l'otto era il suo giorno e io avevo pregato per la madonnina celeste e di fatti ci dicono Adamo ma non solo a me ma anche a voi di affidarvi a lei se chi prega di affidarsi a lei perché se noi la cerchiamo lei arriva e ci aiuta se noi non chiediamo aiuto loro non è che vengono di loro spontanea volontà eh anzi loro sono contenti quando noi li cerchiamo e abbiamo bisogno di loro perché comunque loro vengono, arrivano, ci aiutano, ci proteggono e ci vogliono bene alla fine così ti colleghi quindi è la frase è Adamo la regina si cerca così ti colleghi vedete comunque se tu la cerchi lei arriva e ti aiuta e ti protegge qua dicono un attimo la mano questo è rivolto a un'altra persona che comunque arriverà in un'altra sessione che dopo è per mi pare Emanuela se non ricordo male e questo qua è il suo papà allora ho sentito qualcosa però poi dopo vediamo adesso vabbè qua va verso la fine ho sentito che comunque ti ha risposto a Angiolina ma soprattutto ho sentito che ha risposto ma aspetta vado a schermintero via sì non ha risposto a Angiolina mi sa che Angiolina ha detto solo una parola e non ha dato un messaggio completo come l'ha fatto Elena Elena forse aveva qualcosa più da dire in confronto ad Angiolina e niente abbiamo visto che comunque il lavoro fatto mio e della mia grande caro amica ha portato i suoi frutti ha portato Elena nella luce Elena dice che sta bene manda un piccolo messaggio alla Roby dicendo guarda che c'è un foglio scritto mio e penso che forse sia quel messaggio scritto sia un messaggio per te e magari ti aveva scritto ti voglio bene o non lo so che cosa ci sia scritto su questo messaggio e comunque ti dice questo insomma e che sta bene e questo è bello perché comunque valuta il nostro lavoro e sapere contattare un'anima che era in difficoltà e sapere che adesso sta bene a noi ci riempie il cuore di gioia insomma e niente al prossimo video con la continuazione di altre piccole sessioni quindi sono video abbastanza veloci non da 30 minuti 40 minuti come è solito perché sono piccole interazioni quindi saranno video brevi da 10-11 minuti o un massimo un quarto d'ora insomma niente al prossimo video la telecamera ok intanto vediamo se c'è qualcuno allora incomincio a leggere per la Roby se Elena e mia nonna Angiolina hanno qualcosa da dirmi o qualcuno allora facciamo così la Roby sentiamo prima Elena Elena ci sei vuoi dire qualcosa dalla Roby allora ho sentito che ha risposto Elena mi ha detto luce qui poi dopo sentiremo quando farò il video sentiremo meglio ecco e allora poi facciamo sempre per te Roby eh Angiolina ci sei vuoi dire qualcosa alla Roby allora ho sentito qualcosa però poi dopo vediamo adesso ho sentito che comunque ti ha risposto a Angiolina ma soprattutto ho sentito che ha risposto Elena